Buongiorno, buongiorno, vabbè, sta pieno, sta pieno di figa, guarda che lavoro, sta pieno. Comunque, sentite che interpretazione, altro che Sanremo. Cioè, l'artista vero, guardate che, cioè, per fare le prove mi sono abbozzato tutto, però è venuta una canzone, cioè, è bellissima, secondo me adesso me la copiano subito, guarda che lavoro. Oh, 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 è sabito, oggi non dimentichiamoci che è sabito, quindi sempre al top, però, ah, madonna, non mi devo scordare una cosa, non dimentico questa, eccole. Cioè, ragazzi, il tesoro è il tesoro, ma senti colore, guardate che figata, tac, mamma mia, sembra un po' come i miei amici camionari, che tutto il giorno stanno per strada, che li saluto tutti, tutti quanti, anche perché nonno Faustino era un camionista, quindi vi saluto tutti. Farò una cosa veramente, veramente particolare, mi hanno invitato su un posto, non vi dico nulla, vedrete, sarà una bella emozione, quindi, una cosa che non ho mai fatto, poi, madonna. Sto caricando un video per le 18 top su YouTube, adesso non posso spoilerare. Iscrivetevi tutti al mio canale, swipe up YouTube, swipe up YouTube. Pranzo qui in hotel, ma, che ho ordinato? Ho preso l'ordinato destro, sinistro e antipasto misto così salto. Bravo, bravo, ricca, bravo, stai imparando. Grande. Sono maestro. Sì, veramente. Guardate, Riccardo è uno di noi, è un coccodrillo, perché? Come fa? Come fa il coccodrillo? La scarpetta. La scarpetta la fa, vai, scarpetta. No, bravo, non se lo fa la scarpetta in video. Vai, vai, vai. Non se lo faccio. Non se lo faccio. Così, va. Ragazzi, sempre voi stessi. La scarpetta fatela sempre, perché è proprio buona. Se il zuco è buono, dobbiamo valorizzarlo. Vai. Di traverso la scarpetta è arrivato il conto. Beh, io so scappato. Non mi scappa via. Mi è riuscito a franzo. No, no. Un franzettino, la, la carletta. Dai, che sei ospite come al solito. No, scrocchella life. Famo alla romana. Io so di Roma. Paghi tu. È giusto? Che beffa. Gira quel carletto, è conveniente. Vai, vai. E vai. Ale, ma che spettacolo. Ah, che amici. Ci stanno queste zanzare. Grosse. Ecco, guarda che zanzara, oh. Mamma mia, via. Guarda che zanzara grossa. Marco. Ciao. Siamo pronti. Si pigiano a caso questi pulsanti, eh. Sì. Ma bellissimo. Pronti per questa nuova esperienza. E niente. Atterramo? Sì. Tampiamo. Vabbè. Che si chiama questo? Inspire. Cioè? Che fa? Cintura nera di karate per la sorca. Ah, a posto. Vedi come guarda con quella telecamera. Controlla tutto. Dov'è la sorca? È di là, detto. Eh là, mandalo di là, va. Siamo? Vai. Sì. Vedi come va veloce verso la sorca? Adesso lo andiamo a cercare. Vabbè. Sta pieno. Guarda, guarda. L'ha trovata. Eh? Eh sì. Proprio è un fenò, è un cecchino. Stiamo per partire, per decollare. Vedi come gira le palle. Sta salendo. No, vabbè. Sta pieno. Oh, guarda. Oh no, saluta. Sì. Saluta. Guarda. Guarda. Oh. Ciao. Eh sì. Aspetta un secondo, però, che sta... Oh, penne tutto, penne. Guarda sotto. Guarda la parola. Guarda. Guarda. Ok. Penso che sia la parte dei box. Sì, rientriamo qua. Sì, rientriamo qua. Stop. 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 Il momento dell'aperitivo. Sempre, in tutte le occasioni. L'aperitivetto. Sempre con il mio amore. La vado a chiamare perché indovinate dove sta. Amore? C'è l'aperitivo? Dai! Questo è sempre al bagno, ragazzi. Non so, forse è meglio non farla bere. Boh. Che vi dico. Io intanto, un brindisi a voi, che siete i miei coccodrilli. Taschino sempre la salsiccia, che pende. Sale e vino. Per vedere l'intero video, fate su WipeUp. Criminale internazionale in pensione. Su YouTube. Mi serve il tuo aiuto, dog. Perché se no, tu che hai fatto un dracomorso, non puoi diventare ormai. La settimana scorsa, una banda super organica. vedendo i vostri commenti sulla storia precedente. Vi ringrazio. Sono sempre molto gentili. Grazie mille. Ero un po' tombolotto da piccolo. Mancare adesso, non è che so proprio... Però, se uno si sente bene con se stesso, sta bene con tutti. Quindi questo è il consiglio che vi posso dare. Ecco, da un piccolo tozzetto fashion block. E niente. Amore! Si asciuga i capelli un'altra volta. Amore, dai! Questa non si muove mai. Io veramente. Cioè, boh. Comunque, lei si prepara, eh. Sono tornate le felpe disponibili. Quindi, SwipeUp! Spenge il fondo, se no, mi si brucia. Pronto! Oh no! Eh! Passi mi nonno! Nonno! Eh! Eh, ti passo, ma si sente male. Spostati! Eh, sposto, dove ho? Per aria. Pronto! Uè, socio! Eh? Socio! E' poco! T'ho detto socio! Ah, socio! Come stai? Com'è l'elicottero? Eh, vola! Ah, certo, ne sta fermo! Ma, l'hai visto? che dici? Eh, l'elicottero, l'elicottero, che urlo forte. L'elicottero, tutto bene. Bello! Tu che stai a fare? Che hai fatto oggi? E co' ho fatto? Eh? Socio giù, pazzo, danzoli! E' fatto? E niente, co' ho fatto? Sto a vedere la televisione, cosa fa? E poi? E poi sei l'ho fatto al culo! Oh, ora ti riconosco! Ti manco? Eh? Eh? Ti manco? E' un po' sì! Ti pippora, c'è, ti pippora, vedeste, la sorta, che è pieno, pieno! Pieno di che? De sorca! Ah, di qui in sarbatte in chiodo! Eh, di qui ce n'è tanta, tanta! Ma col pelo o senza? Eh, ci ho guardato! Ma come ti piace da te? Oh, quanto? Tanto pelo! Più ce n'è, e meglio è! Va bene! Ci vediamo, ci sentimo domani! Va bene, a che ora? Siete i pittichicritti! I pittichicritti! Di stessa di cazzo! Me la dico a come arrivi! Alle pinfi! a tu, dai, a fanculo! No! Eh, come no! E lui, come mi dice, le stupidagini! Ti chiamo domani, ciao! Ciao, ciao! Ciao, socio! Ciao! 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 Ciao!